Salve a tutti cari amici del nostro canale, oggi entriamo nel mondo di Daniele Dal Moro dopo gli eventi che hanno scosso la sua vita e quella di Oriana. Dopo i momenti intensi ecco come sta trascorrendo le sue giornate. Prima però cliccate su iscriviti per essere sempre aggiornati e per darci il vostro prezioso supporto. Abbiamo esplorato la vita di Oriana nel video precedente e ora è il momento di dare un'occhiata a Daniele. Nonostante gli scontri con Oriana e amici in comune, Daniele non ha smentito nulla. Ovviamente solo loro conoscono la verità dietro gli avvenimenti, ma ascoltando i vocali di Oriana e leggendo le dichiarazioni di Daniele possiamo fomentare qualche idea sulla situazione. Tuttavia andiamo oltre. Daniele si sta dedicando intensamente al fitness, seguendo anche un'adeguata alimentazione e i risultati parlano da soli. Attraverso le sue storie ci mostra la sua dedizione in palestra, momenti della giornata e le uscite con gli amici. Non solo, continua a intrattenere i suoi fan con le dirette su Twitch. Quanti di voi lo seguono? Ma c'è un dettaglio intrigante che circola, sembra che Daniele conservi ancora un sentimento per Oriana. L'abbiamo appreso da Dejanira Marzano, esperta di gossip, che ha confermato. Certo, Daniele ama moltissimo Oriana. Ora la domanda è per voi. Cosa pensate di tutto questo dopo le turbolente vicissitudini? Condividete la vostra opinione nei commenti e se non l'è ancora fatto, iscriviti al nostro canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le vicende più intriganti. Grazie per essere con noi in questo viaggio pieno di emozioni e ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato il nostro canale per aver guardato il nostro canale per aver guardato il nostro canale.